Parleremo delle spiriti guida, parleremo di channeling, parleremo in generale della canalizzazione perché molte persone confondono che cos'è la canalizzazione o un contatto. Canalizzazioni, contatti, spiriti guida, maestri e tutto il resto. Ciò che interessa molte persone ma quello che viene molto spesso confuso. Cercheremo adesso di sistemare ogni cosa perché così quando finite da me a fare il contatto sapete benissimo con chi state parlando. Allora vi spiego esattamente quello che spiego ai miei studenti della scuola. Ecco, studenti e anche clienti che arrivano perché mi arriva qualcuno e dice Allora Slavi, io vorrei chiedere alla mia mamma trapassata, vorrei chiedere cosa ne pensa del mio cammino spirituale e se mi dà qualche compito in modo come posso sviluppare le mie capacità. Non va bene perché questo non è il compito dei trapassati, raccontarti il modo come puoi esercitarti con le tue capacità, visto che magari la tua mamma non ha mai toccato questo argomento. Ok? Il compito dei spiriti guida è quello di spiegarti come funziona la tua vita, che cosa la tua anima ha voluto per questa rincarnazione, che talenti, che capacità ha portato in questa vita. La tua anima ti può spiegare queste cose, la tua guida ti può spiegare, attraverso la numerologia, attraverso astrologia è possibile capire che tipo di percorso ci sta aspettando. Un trapassato, se non ero un astrologo, non ero un numerologo, non facevo nulla a che fare con capire che cos'è il disegno del destino nella vita, non lo potrà fare neanche da morto. Perché chi ha già assistito a alcune mie dimostrazioni pubbliche di medianità, vedete che trapassate rimangono esattamente così come le abbiamo conosciute. Perciò se la mia mamma era una contabile, non mi racconterà dei segreti dell'universo. Non mi potrà dare i compiti come posso esercitarmi, per esempio nella ritualistica, perché non era il suo compito e non era nelle sue competenze e nelle sapienze. Cominciamo a sistemare tutto. Primo mondo che noi troviamo dopo il mondo fisico è il mondo astrale. Il mondo astrale sta in mezzo mondo fisico e altri mondi, diciamo come un cuscinetto. Noi quando facciamo i nostri contatti o canalizzazioni li facciamo sempre attraverso il mondo astrale, anche se molte persone non si rendono conto dove viene fatta la connessione. mondo astrale, ok? Noi finché siamo vivi possiamo arrivare in altri mondi soltanto fino alla fine del mondo astrale. Noi non possiamo entrare nel mondo spirituale, in nessun mondo dei mondi spirituali, perché siamo ancora ancorati in questo corpo fisico e siamo limitati nella capacità anche della nostra anima di fare questi viaggetti. Possiamo viaggiare fino a un certo punto, ok? Primo mondo che noi troviamo nei mondi spirituali è il mondo dei trapassati. Dove vanno tutti i nostri cari? Dove andremo anche noi? Qual è il compito ha il mondo dei trapassati e anche i nostri cari? Certamente loro ci proteggono, certamente ci danno una mano, ma anche questo fino a un certo punto, perché visto che non sono fisici, non è che possono aiutarci fisicamente, per esempio spostare un tavolo, non è possibile. Possono ogni tanto creare qualche fenomeno paranormale, ma non sarà la loro presenza costante e tangibile, ormai non più. Per questo cosa noi possiamo chiedere? Cara nonna, aiutami per favore di capire il rapporto tra me e mia figlia o la mia sorella. Cara nonna, guidami come mi hai guidato con la tua saggezza dentro nella famiglia. Ma dobbiamo capire che la nonna trapassata guida, che noi le attribuiamo questo compito, o ha preso questo compito quando era ancora viva sulla terra, non sarà la stessa cosa con lo spirito guida. Di questo ne parleremo più tardi. Con il mondo dello spirito, chiamiamo così il mondo dei trapassati, noi possiamo entrare in contatto, proprio contatto, non è che canalizziamo, nonostante abbiamo una sorta di ispirazione, però questa ispirazione è parecchio limitata nei frammenti. Frammenti di ciò che era la memoria della persona trapassata, con quello che ha vissuto e ciò che vuole darci come il messaggio. Canalizzare vuol dire far fluire le ispirazioni in modo logico e lungo, ok? E tra l'altro, per favore, non confondete due termini, entità e spirito, perché ho sentito queste sbagli anche da chi da tanto tempo lavora con la medianità. Un medium non può permettersi di sbagliare questi due termini. L'entità noi chiamiamo le energie che non erano mai rincarnate come un essere umano, ok? In un certo senso anche l'angelo possiamo chiamare un'entità, però avendo il loro nome angelo o arcangelo, ormai noi li chiamiamo per questo nome. L'entità è una forma di energie diversa. Chi ha avuto aspetto fisico, noi li chiamiamo spiriti o le anime, ok? Non confondiamo, per favore, questa cosa, ok? Perciò, quando comunichiamo con le anime dei trapassati, questa è la medianità, e loro possono arrivare nelle loro conoscenze o di darci delle informazioni soltanto fino ad un certo punto, perché ogni mondo ha le sue regole. Ogni mondo, purtroppo, ha i suoi limiti, come anche noi nel mondo fisico siamo limitati in molte cose, per esempio noi non sappiamo volare, non possiamo entrare nel mondo spirituale prima che trapassiamo. Tanti limiti, ok? Quando noi entriamo in contatto con altri mondi, noi spesso dimentichiamo che ogni mondo ha le sue leggi. loro conoscono molto bene la legge del pianeta Terra, del nostro mondo materiale, e per quello, per loro, per qualsiasi anima, spirito o entità, è molto semplice entrare in contatto con la nostra dimensione perché la studiano, perché la conoscono, conoscono i nostri leggi e cercano di sintonizzarsi proprio con le leggi della nostra dimensione. Invece noi, esseri umani, pensiamo che noi siamo unici in tutto il mondo, in l'universo, e che siamo così importanti che tutte le altre entità o spiriti devono per forza capire come noi funzioniamo e non ci impegniamo molto a capire loro, loro regole, le loro leggi. Per quello, loro possono entrare con noi in contatto, ci sentono, però noi a volte non li sentiamo, noi facciamo fatica a contattare altre dimensioni perché non conosciamo e per questo esistono varie diverse ricerche spirituali dove bisogna impegnarsi. Nonostante non possiamo sapere e conoscere tutto, però una volta io, per esempio, quando ho cominciato a lavorare, prendiamo il mondo delle guide, io ho cominciato a fare le domande alle guide per poter capire in che modo io posso sentirli, che tipo di domande le devo fare per poter entrare un po' anche nella loro visione e filosofia, nel loro modo, quel loro mondo, dove vivono con qualche leggi che io non conosco. È come quando andate, per esempio, non lo so, in Cina, volete fare un viaggio in un paese straniero, voi cosa fate? Prima di tutto, volete conoscere quel posto, vero? Almeno imparate due o tre parole in cinese, capite la loro cultura e allora quando andate fa tutto bene, tutto liscio e sarà perfetto e interessante. Però perché non facciamo così con il mondo spirituale? Mondo dei trapassati, secondo mondo è il mondo che va oltre, dove l'anima della persona trapassata attraverso varie diverse rincarnazioni fa la sua evoluzione e non si rincarna più perché ha finito la sua catena delle rincarnazioni, adesso ha un altro compito, può decidere andare magari in pensione e dice vado a godermi questo universo, la mia immortalità, mi sciolgo nel potere di Dio e rimango nell'universo. Va benissimo, ok? Però ci sono delle anime che dicono no, io nonostante ho fatto un mazzo così sulla terra, però vorrei comunque ancora essere utile al pianeta, alla terra a quale ho dato maggior parte della mia esistenza. Cosa succede a questo punto? Le può essere fatta una proposta. Va bene. Se vuoi, puoi lavorare per il mondo spirituale aiutando le anime che stanno ancora affrontando difficoltà nella vita fisica e poi diventare una specie di insegnante, una specie di guida. Però per diventare la guida devi fare la pratica. Esattamente come fare, non lo so, un apprendistato dopo che hai finito l'università, prima di cominciare a lavorare, inizi apprendistato, ok? E allora si impara a diventare le guide, magari si collabora con altre guide e apprendisti, magari ancora stanno nel mondo dei trapassati, perché anche nel mondo dei trapassati, credetemi, ci vogliono le guide, ci vogliono varie diverse anime o entità che possono coordinare il funzionamento di quella dimensione. Perché quando noi arriviamo nel mondo dell'aldilà non è che troveremo niente e dobbiamo arrangiarsi da soli. Qualcuno verrà a prenderci, qualcuno deve spiegarci come funziona il mondo dell'aldilà, qualcuno deve portarci da una parte all'altra, ci fanno escursione, non lo so. Allora devono essere le anime, le guide e le entità che si occupano di questo. Allora, si inizia l'apprendistato, si lavorano i gruppi o magari le guide o apprendisti cominciano piano piano a prendere la loro indipendenza e poi passano dal mondo dei trapassati, qualcuno rimane, perché magari troveranno proprio lì il loro compito e dicono, guarda, a me piace lavorare qui. Magari aiuterò qualche trapassato a fare un contatto con la Terra. Perché anche questo è un compito di una guida. Molti medium collaborano con le guide del mondo dei trapassati per poter creare un contatto. E allora queste guide sono dappertutto, ma si formano soprattutto dalle anime delle persone trapassate che stanno finendo o hanno finito la loro catena delle rincarnazioni. Ci sono le guide che lavorano in gruppi anche quando diventano già maestri. E voi potete sentire durante una canalizzazione quando una guida parla in plurale. Non dice io guida che ti sto dicendo, ma noi guide che ti stiamo parlando. I gruppi esistono sia nel mondo dei trapassati sia nel mondo, già nel mondo della saggezza, dove ci sono le guide che non scendono più sulla Terra, però hanno una bella connessione con la nostra dimensione.